Racconto d'arte, nuova puntata dal nostro approfondimento quotidiano dedicato alla storia dell'arte italiana quest'oggi possiamo dirlo perché oggi parleremo di Caravaggio e della sua opera più famosa che è Canestra di frutta ovviamente insieme a moltissime altre opere che sono rimaste nella storia ma facciamo prima come di consueto un breve excursus per quanto riguarda la vita di questo artista Caravaggio il cui è ovviamente uno pseudonimo di Michelangelo Merisi che nasce a Milano il 29 settembre del 1571 e muore a Porto Ercole il 18 luglio del 1610 è stato un pittore italiano che si è formato a Milano ed è stato attivo per gran parte della sua carriera artistica a Roma durante gli ultimi anni della sua vita durante gli ultimi quattro per l'esattezza si trasferì a Napoli ma viaggiò anche perché si spostò anche a Malta ma anche in Sicilia Caravaggio acquisì grande fama internazionale in vita ma anche subito dopo la morte questo perché perché costituì la corrente del caravaggismo ed esercitò anche una forte influenza per quanto riguarda la pittura barocca del XVII secolo in realtà poi venne dimenticato per un periodo e venne riscoperto nel XX secolo oggi ovviamente è considerato uno dei più celebri rappresentanti dell'arte occidentale di tutti i tempi ed è anche il fondatore della corrente naturalistica moderna ovviamente corrente in contrapposizione al manierismo e al classicismo ma è anche considerato il precursore della sensibilità barocca i suoi dipinti infatti mostrano un'eccezionale sensibilità nella resa della dimensione umana fisica ma anche emotiva dei personaggi che raffigura anche tramite la tecnica della fedeltà al modello dal vivo e anche dell'uso scenografico della luce queste sono delle caratteristiche che allora furono considerate estremamente rivoluzionarie e ovviamente che si contrapponevano a quella che era la prassi accademica di raffaello in ogni caso la principale componente del suo stile consiste nel realizzare la prospettiva e la tridimensionalità attraverso l'uso drammatico e teatrale della tecnica del chiaro scuro torniamo adesso però ad analizzare quella che è l'opera che ci avete suggerito di analizzare oggi insieme della canestra di frutta un dipinto realizzato tra il 1597 e il 1600 attualmente conservato nella pinacoteca ambrosiana di milano è considerato uno dei primi dipinti del genere della natura morta e sintetizza diverse esperienze andiamo a vederle insieme quella tardo manierista che è interessata tra i grandi apparati naturali e dall'altro lato invece nell'assolutezza della figura che il cesto colmo determina e nell'insolito punto di vista equatoriale si può notare un interesse per quello che è considerato un soggetto inanimato non più periferico e complementare alla figura umana ma un soggetto a sé stante un soggetto centrale ma anche esauriente ecco il tema della natura morta è già documentato nell'arte ellenistica dei secoli terzo e secondo avanti cristo ma anche nei mosaici di pompei di ercolano di stabbia parliamo di un periodo che oscilla tra il primo è il primo secolo avanti cristo e il primo secolo dopo cristo oltre a questo il tema interessò anche l'iconografia ricca dei richiami evocativi simbolici dell'arte religiosa ma si affermò anche come genere autonomo ecco questo avvenne però soltanto negli anni della contro riforma negli ultimi decenni del 500 lo sviluppo della natura morta si inserì infatti all'interno del rinnovamento iconografico della pittura di devozione come conseguenza del riconoscimento sancito dal concilio di trento della capacità degli elementi naturali di evocare di stimolare la devozione religiosa con la loro semplice immediatezza nella cultura contro riformista infatti si sviluppò il gusto per i soggetti emblematici allegorici concettuali questa riforma diede quindi vita o meglio diede parecchia importanza e poi ovviamente diede vita a quella che è la corrente della natura morta l'opera tornando proprio all'opera in particolare di caravaggio venne forse commissionata dal cardinale borromeo non si ha alcuna certezza mentre si trovava a roma infatti il dipinto è presente nella collezione del cardinale federico borromeo già nel 1607 ricordiamo che quest'opera è stata realizzata in un periodo che oscilla tra il 1597 e il 1600 quindi già nel 1607 apparteneva alla collezione del cardinale questo è documentato dallo stesso committente in un condicidio del 17 settembre dello stesso anno ecco dobbiamo dire anche che il borromeo fu a roma nell'ottobre del 1580 e ci restò fino a luglio del 1595 poi tornò nuovamente nella capitale nel 1599 e restò lì fino al 1601 quindi per altri due anni ecco in questo periodo che il cardinale potrebbe aver conosciuto personalmente addirittura caravaggio e quindi poi poter diciamo commissionare quest'opera proprio in quel periodo in ogni caso nel 1618 borromeo divenuto cardinale arcivescovo di milano decise di far costruire un edificio destinato alla futura pinacoteca ambrosiana ovviamente accanto alla preesistente struttura della biblioteca ambrosiana attiva già dal 1609 quindi da ben nove anni prima la canestra venne donata alla pinacoteca ambrosiana dal borromeo stesso quando i lavori furono ultimati unitamente a tutte le sue opere appartenenti alla collezione privata ecco possiamo dire semplicemente per diciamo entrare nel merito della descrizione ma anche dello stile dell'opera che come detto mostra una canestra definita con precisione analitica con diciamo dei tratti quasi fiamminghi all'interno del quale appunto in questo cesto di vimini troviamo frutti e foglie di ogni genere e la cestina sporge in maniera proprio impercettibile minima in avanti nel suo tangibile realismo tridimensionale ecco che si contrappone allo sfondo che ovviamente rimane bidimensionale ecco questa è come se fosse una situazione precaria cioè come se l'artista volesse ricreare un colpo d'occhio che attrae lo spettatore moderno subito in maniera immediata questa tendenza così come la presentazione dei frutti bacati o intaccati dalle malattie simboleggia la vanitas dell'esistenza umana ovvero il richiamo alla caducità della vita che è un bene effimero un bene che svanisce ovviamente nel nel tempo si tratta quindi di un sipario decontestualizzato che è quasi sottratto dal suo reale contesto naturale che non è quello e anche il realismo in realtà è solo apparente perché sono rappresentati insieme frutti di stagioni totalmente diverse e quindi questo può destare o meglio destra nello spettatore una sensazione di un'inedita circolarità probabilmente affine al rispecchiamento di un umile desco da nascita quindi un qualcosa di di astrologico quello che possiamo dire che il cesto di Rimini è rappresentato come se si trovasse in alto rispetto allo sguardo di un ipotetico spettatore quindi il cesto viene rappresentato come se fosse posto su una tavola da cui dà l'impressione di sporgere in maniera molto lieve la scelta di questo taglio permette a caravaggio di ma anche alla sua composizione di far emergere la natura morta quindi ciò che si trova all'interno del cesto di Rimini attraverso l'uso di uno sfondo chiaro di uno sfondo che sia particolarmente luminoso ma soprattutto sia uniforme ecco infatti la luce sembra provenire da una fonte naturale e svela le gradazioni di colore che differenziano ad esempio gli acini chiari da quelli acerbi in primo piano e da quelli molto maturi ecco questo è un esempio per far capire meglio il contrasto dei colori che lui utilizza ovviamente la frutta in questo caso diventa la protagonista del dipinto del quadro e acquista un significato ambiguo perché da un lato troviamo frutta fresca fragrante dall'altro invece si contrappone quella ormai matura fragile ecco che addirittura è coronata da alcune foglie secche quindi in ogni caso in quest'opera possiamo dire che caravaggio vuole ricreare vuole contrapporre la brevità della giovinezza e dell'esistenza umana alla maturazione della frutta e dei fiori sapete che poi ovviamente un frutto maturo se non mangiato nei tempi diciamo previsti ovviamente poi finisce per essere buttato quindi è questo quello che caravaggio vuole sottolineare cioè la contrapposizione tra l'essere giovani freschi ovviamente poi alla maturità all'anzianità che arriva quindi il tempo che scorre inesorabilmente siamo giunti al termine anche di questa puntata io vi ringrazio sempre per la vostra attenzione vi ricordo le nostre pagine social sia facebook che instagram sicilia 24 e spazio notizia continuate a scriverci lì le opere di cui siete più curiosi e ovviamente nel corso delle prossime puntate le approfondiremo insieme grazie ancora una volta per averci seguito racconto d'arte torna domani